L'uomo ligre. Ah, ciao Marco, siete l'uomo ligre. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Dario. Come stai? Male. Perché? Che è successo? Vorrei fare video su YouTube. Eh, ho letto le tue storie ieri su Instagram. Sono più disperato internamente di quello che faccio vedere. Ma perché non li puoi fare, ho visto che ti servono delle location che non puoi ottenere, una roba del genere. Insomma, praticamente la storia è stata questa. Ops. Non so se hai mai seguito la roba mia, Gian Piero, la sua ragazza che viveva qua. So tutto, so tutto, so tutto. Ok, è stato veramente un vilipendio tutta quella storia là. È finita, io Gian Piero ci siamo veramente riallacciati, in più con quella voglia di rivendicare i momenti persi. E proprio quando avevamo, ma ti giuro un colpo in canna incredibile, avevo scritto un video forgiato da tutta la roba di E vai, adesso c'è Gian Piero. Adesso siamo in carreggiata perché avevamo da poco fatto uscire il video, quello là, dei disabili. E' andato benissimo, eravamo contentissimi, avevamo pure fatto una festa a casa mia, non abbiamo mai festeggiato un mio video. Però secondo me era il giusto momento per farlo, abbiamo invitato tutti gli attori, è stato bello. Ed è scoppiata la pandemia. Merda. Ma te per lavoro non puoi quindi fare robe del genere, tipo concettificazioni eccetera? Lo posso fare, ma che sbattimento. Il video che avevo scritto aveva veramente un sacco di location che non erano questa, e in più non erano location, non sono neanche location dove puoi andarci autocertificato, devono aprire. Non sono aperte. Ok. Quindi l'utilizzazione o no, non sono ancora disponibili. E sono quasi tutte location che non sono necessarie per il vivere, perciò penso che avranno per ultime. Quindi che palle. Spero non ci sia una palestra anche di mezzo. C'è una palestra? C'è un ring. No, merda. Ma perché le palestre non aprono? No, perché le palestre diciamo sono dei luoghi maledetti per il covid. Cioè sudore, respirazione affannosa, è un casino, è un casino. C'era proprio quello, c'era proprio quello. Però se riaprono in forma privata forse non è la stessa cosa. Se lo fanno per te, anzi magari li fai in favore perché guadagnano su qualcosa se li fai riaprire. E se gli affitti la palestra, vai a sapere. Sì, sì, era un affittare la palestra. Ok. Però che scocciatura. Eh, lo so. Quindi adesso mi sono un po' arreso a fare un video di quelli là che facevo tempo fa con il doppiaggio. Noi faccio una parodia di Mario Academy. Ah, era quello il famoso anime di cui stavi parlando delle storie. Mi immagino agli insulti, allo stereotipo, a tutti gli stereotipi che ricalca, vabbè, ci sarà di tutto. Ma guarda, in realtà è stato facile perché per farlo divertente bisogna un attimo svuappare quelli che sono i comportamenti. Tipo, spoilerino, c'è Bakugo, che l'ho reso calmissimo. Ah, ok. Calmissimo e soprattutto molto consiglierevole nei riguardi degli altri. Deku è incazzato, il cancro. Ok. Ascolto che stavo soccola al dottore. E invece All Might, che è il mio personaggio preferito, sia del cartone che della parodia che ho scritto. ha questi problemi perché il suo combattimento è il fatto che non sa gestire la sua immagine pubblica, perché ogni volta che fa un saluto o parla lo fa sempre in maniera molto nazista, ma non lo sa. È semplicemente un ignorante. Cade spesso nel nazismo e nel fascismo, quindi la gente lo vede male, ma lui non lo sa, poverino. Ti stai sfogando, ti stai sfogando per le cose che non puoi fare e dire su Twitch, praticamente, con questo video. Esattamente. C'è un punto in cui Deku fa, mi dissocio, è solo una battuta con gli Ardica, fa mi mancano i tempi in cui c'è il razzismo sui neri, adesso si prendono in giro chi ha i superpoteri stupidi. Ok. Quindi, senti, è molto figo perché ci ho messo anche dei meme di Twitch del mio canale, quindi è proprio uno scambio. Un crossover. Grazie a me. Sì, sì, quindi è buono. Vediamo. Dai, figo. Io sì, anche io mi metterò a fare un nuovo video, lunghino, però vabbè, appena finita questa paratola mi metto a scriverlo. Però vabbè, io ho il vantaggio che tutto vuoi crossover come questo video qua, quindi che stai preparando te. Bene o male si fa. Ma tanto la gente, alla fine Marco, vuole avere una compagnia continua e quindi le live sono la cosa migliore per noi adesso e per loro. Lo so, lo so, ma infatti a volte sento proprio il bisogno di aprire la live, che è una cosa buona perché tempo fa non lo provavo, però io ero in una situazione dove da poco eravamo tornati e quindi fare questa roba qua, per gente come noi che avevamo una cazzo di produzione dietro, è veramente un ok, usiamo l'ultima spiaggia. Anche se la spiaggia è più remunativa, certo, è la spiaggia più a contatto con loro, che è questo quello che serve, però non a me specificatamente, quindi è un po' una lamentata, egoista. Grazie a Tommaso. No, vabbè, alla fine sto parlando la live, Matteo. Comunque, grande incontro Marco Merrino, riso, eh, attenzione. Ciao, ciao riso. Ciao, piacere, ciao. Piacere Marco. Ah, bene, c'è anche Masellone. Ciao ragazzi. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Ciao Masello. Ciao Marco, ciao Matteo. Vabbè, è egoistica fino a un certo punto, alla fine Marco in questo periodo tutti stanno pensando un po' al proprio lavoro, anche mio padre vorrebbe tipo farsi saltare in aria, ovviamente gogliardicamente. Grazie Roberto, perché non può... Eh, me lo avrei detto, mamma mia che scocciolo. Ah, gli hanno detto che dovrà riaprire a giugno, quindi lui è ancora più in paranoia e... per mille motivi. E ha avuto fortuna, eh? Sì, ha avuto fortuna. Infatti non ci posso parlare in questo periodo, cioè io sto evitando anche di chiamarlo, perché tanto è, sarebbe inutile. Che situazione assurda. In Francia è bello, spensare a Dario, il negativo è per antonomasia, che deve in qualche maniera risollevare lo spirito di su qua è qualcosa di... Perché mio padre è peggio di me, in realtà, quindi... Esatto. E questo ti fa capire come si è messo bene io. Bah, vabbè. Comunque va bene così. Vabbè, comunque non puoi capire io stamani il casino che ho fatto su Twitch. Perché? Che si è combinato? Grazie alla potenza per l'euro. Eh, perché Hertz, eccolo, grande, temendo. Perché io e Hertz siamo impazziti per far ripristinare la live. Vabbè, ragazzi, tranquilli, cioè, dormivo due ore in più e la live rimane... È crashata la connessione, è crashata quindi la maratona tutta puttana. Ah, ok. Ma sì, ah, oh che pa... Vabbè, evito per un po', finché non diventa asfissiante. Maurizio, non vi ricordo un po', è il Cino Alvaro Recoba, non so chi sia. Chi è? No, lo dovresti sapere, Dario. Ah, sì, Gio, sono un giocatore di calcio. Ah, non so se lo sapevi, Marco, ma io... Te ti fai Sampdoria, no? Giusto? Sì. E io Inter. Fantastico. Sì. Molto bello. E dove sei, Marco? Cosa? E dove sei? Messina. Messina. In Sicilia. Ma stai su a Milano, giusto? Sì, sì, mi sono trasferito da tre anni. Da anni. Sì, sì. Già tre anni, Marco. Questa è il cambio. Capito? Assurdo, eh. Ma quando mai? È vero, è vero. Tre anni? Boh, mi sembra uno, tipo. Pure a me, pure a me. Mi sembra una settimana. Dicevo, com'è stato il cambio a Milano? Perché io penso non ci potrei mai vivere lassù. L'unica cosa che mi ha fatto male è stato il mio, che cretino che l'ho fatto solamente adesso. Ah sì? Sì, sì, sì. Io non ho capito che è il trono. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, grande fan. Sono entrato anche per conoscerti, era troppo ghiotta. Ciao, bello. Volevo scusarmi anche con Matteo perché io ho creduto che era lui prima. Però non potevo passare il link così. Ma scusa, Marco. Mi devo scusare con te perché chattavo con te e pensavo che eri caverna. Tra l'altro, sì. Dome. Che cassino avevi fatto? Mi mandi il link a Dome. Ma quindi, Marco, te non ti sei spostato a Milano per paura? Io pensavo fosse un fattore economico, cioè tu stessi aspettando. Io non mi ero spostato a Milano perché per tanti modi. uno di questi era il fattore economico, sì. Anche se io prima di Milano ero veramente un mani bucate perché per me riuscire a fare soldi con internet quando tutto quello che stava intorno a me mi diceva non puoi fare soldi con internet è stata la vendetta finale. No, quindi ho continuato a farlo per anni. Ah, io li hai sperperato per dire. Posso sperperare, è come me, sì. Posso sperperare tutto e la gente, mi piace che la gente mi diceva pure perché io condividevo perché pagavo le scene a tutti e la gente pensava è veramente una persona generosa. No, semplicemente avevo questa subquest dentro di me che dovevo completare e il fatto che ci guadagniamo anche di generosità nei riguardi degli altri, dice ok, non dicevo niente perché era strano dire non lo sto facendo per te coglione, lo sto facendo per me, ora mangia. Va bene, cioè se tutti sono contenti non è che devo dire nulla. C'è quella grande diatriba che è una buona azione anche se è fatta per motivi sbagliati rimane una buona azione comunque. Hai capito? Viene il bico che faccio, sono altruista se dico no non lo sto facendo per questo o sono imbroglione se dico no non lo so. Sei comunque altruista in teoria, no? Non lo so, la gente vuole che vuole dire. Insomma, perché alla fine se lo fai per ostentare non è proprio altruismo, è semplicemente ti è poveraccio, ti sto pagando la scena perché posso tutto qua. Ovviamente non era in tutti i casi così, però questa che sto dicendo è una paracolata. Poi uno degli altri motivi in realtà, forse più grosso di questo qua economico, perché come ti avevo detto ero in quella situazione di mani bucate, era il fatto che Messina ha un vantaggio, slash svantaggio su Milano, ovvero che per quanto riguarda il mio lavoro perché là avevo tutti i contatti del mondo, se per un video mi serviva una mucca, io avevo una mucca, parlo di risorse inusuali nei video e i miei video avevano bisogno, andando avanti col tempo, di risorse inusuali. Là tutti si conoscono, quindi potevi veramente avere tutto quello che volevi, in più là c'è questa roba qua del rispetto, tu fai una cosa per me che lo faccio per te, quindi potevi ottenere tutto gratis, loro dicevano sì sì non preoccuparti, ma è sempre stato un preoccuparti un po' mafiosino, tipo un giorno ti chiederò qualcosa, però poi io sparivo, infatti tutti mi odiavano. Cioè è più che altro è questo che se tu mi fai fare una cosa e io voglio pagarti, mi dici di no non preoccuparti, però poi arriva un momento dove devo preoccuparmi perché ho avuto qualcosa in cambio, perché hai fatto quella cosa là, non ti rispetto, mi dispiace, puoi veramente unirti alla fila di gente che mi odia perché Marco Merino è stronzo perché a un certo punto non risponde più. Vabbè, quindi questi erano i due principali motivi, infatti il primo anno qui a Milano è stato un... beh, iniziamo a conoscere tutti perché abbiamo zero risorse intendo proprio di location, di tutto. E tuttora sicuramente ho più vantaggi perché giù se sei amico hai subito il permesso per ottenere la risorsa, su se non sei amico ce l'hai comunque però potresti ricevere un no. Giù però se non sei amico lo ricevi per forza il no, mi sono spiegato nel peggior dei modi, però giù vale molto l'amicizia, qua su vale molto la referenza, infatti spesso quando c'è un posto grande che magari voglio affittare o che online non dà riferimenti per essere contattato, io faccio parlare l'agenzia, così sembro anche incravattato. Però è una cosa sempre ridicola perché incravattato, poi vado tipo esempio, quando abbiamo fatto lo spezzone di quello nella sedia a rotelle che lanciavo a pochi pall, ok, quel posto là si era fermato per noi, no? E ovviamente ho chiamato l'agenzia per farlo fare, in modo da sembrare tutti incravattati e eleganti, poi andavamo là e queste persone qua che ci guardavano alla distanza vedevano io che tiravo questa persona qua e per e questa è proprio la vita che volevo. Anche a Milano si sono sdubbiati per una roba del genere, beh effettivamente. Perché la vita la voglio vivere così. Come non ci fosse un domani, assolutamente. Teatro Simone Sciuè dice, ciao Marco, pensi che Mani Bucate sarà anche il nome del maxiprocesso che dovrei affrontare in un ipotetico futuro? Come mai? Non lo so, è un donatore, grazie Simone, comunque non so a cosa si. Spero di sì, spero di sì. Tra l'altro, vabbè, delle persone spammano Last of Tale ovviamente da quando è entrato in una bella. Spammano pure di fargli conoscere Gischianto se lo devo modificare. Non ho voglia, te la like, ti dice. Ok, ok. A me, io l'ho conosciuto. Grande. Buon per te, io ti invidio Marco tantissimo, tipo. Io l'ho conosciuto perché l'anno scorso al Fanta Expo è spuntato. È spuntato, non era fra gli... Però è spuntato. A terra. È spuntato anche nell'area VIP. E io non mi sono assolutamente ribellato, non l'ho cacciato, ero contento del fatto che succedono queste cose qua, che la gente a volte spunta. Ed è veramente... è presente su Harry Potter, che c'è quel... Agri, a questo punto se ne deve andare e c'è quel tizio là, quel grande gigante che lascia... dice di parmione Ron e Harry. Sì. Ok. Gischianto è quello. Ma l'area VIP è stata creata per lui, cioè, ma che davvero? Sì. Cioè, se non c'è stava lui. Ma io, guarda, l'ho invitato due volte, è venuto due volte qua e poi mi sono recuperato un po'... Ci abbiamo parlato ieri. Ci abbiamo parlato ieri, poi abbiamo visto le sue clip in diretta. Io mi sono recuperato un sacco di roba sua. Io penso che è il futuro che vorrei. Io voglio quel futuro lì. Cioè, io voglio streamer che si fanno svegliare a 250 decibel con dei video assurdi. Voglio quello. Io l'ho anche svegliato una volta, è stato molto bello. Svegliare Gischianto è sempre stupendo. È stata fatta... Allora, ragazzi, smettetela di chiedere robe di cui abbiamo già detto che non vogliamo parlare e grazie a Blackstar... La stanno chiedendo il soft tail. Da quando è entrato il masella? Allora, fermata su quella cosa lì, che fra tutti gli scherzi e tutte le critiche che ho fatto anche insieme, fra lì in passato, è la più imbecille, vuol dire che effettivamente vuole solamente vedere lo scontro e non vuole vedere qualcosa di costruttivo. Era ovvio che io non potrei mai scherzare in quel... Io non potrei mai essere serio in quel modo là davanti a una persona che ha quel lobby. Ma siete cretini? Cioè, se pensate questo e se effettivamente volete attivare lo scontro tramite quello, allora precisamente volete vedere solamente un incontro di wrestling. Mi dispiace, ragazzi, ma non sono per cui per questo. Tra le altre cose, Davide appena ha visto quella cosa, perché ovviamente l'hanno passata tutta... Tutti l'hanno passata a Davide questa cosa, che Davide ricorda tutti. Perché la storia... Io ho semplicemente fatto questo presidente di una squadra di soft tail per otto anni. No, vabbè, ma perché hanno visto soprattutto il live, te che fai le live con dietro i fucili della soft tail, ti hanno fatto domande in merito e quindi l'hanno scoperto alla fine, no? E ricorda a tutti che Davide non è uno streamer. Cioè, Davide è un mio amico che ho buttato dentro alle live e vaffanculo. Cioè, non è che è un Twitch, non è nulla. Davide vende magic, quindi dice figurati. Nonostante questo, tantissime persone dopo quel momento lì nella live di Marco hanno passato la clip a Davide. Questo vuol dire che la gente non vuole vedere altro che gli scontri di wrestling. Va benissimo, però anche no, anche un po' meno, ragazzi. Ma magari qualcuno che la prende effettivamente, seriamente, c'è, e che vuole vedere qualcosa di costruttivo, c'è, ma viene assolutamente ombreggiato da tutta quella gente là che lo fa solamente ovviamente per lo show. Sì, c'è qualcuno che vuole la gag, lo schiacettino, eccetera. C'è qualcuno che invece vorrebbe vedere il sangue. La cosa che mi dà più fastidio è che tutta questa gente qua si professa come nostra grande fan, ma se tu ci hai seguito per tanto tempo, per poi ad arrivare a fare l'azione, di mandare quella clip a quella persona solamente perché vuoi lo scontro, sei un po' fan di sto cazzo. Io che dovrei fare adesso con Masella? Eh, stupido, coglione! Ragazzi, io posso farlo, e con Daniele è la cosa che in maggior parte occupa il nostro tempo, però di certo non è un modo per parlare con qualcuno in maniera seria. È logico. Grazie, Puccio. Sì, sì, ora si fa il gingolino. Puccio, Cantuccio, tra le altre cose, lo stesso Davide aveva capito che la gente voleva il sangue e ha detto no, ragazzi, lasciamo perdere, a me ne frega nulla. Quindi, se ci arriva lui, ragazzi, arrivateci anche voi. È molto semplice, in realtà. Dario, ci schianto? Sta dormendo? No, come sta dormendo? No? Sì, sì, gli ho mandato due clip prima, una non ha fatto una piega, l'altra manca è partita, infatti sto rosicando. Bene, allora dopo ci recuperiamo tutto, trono. Ciao, Davide, ciao, buon appetito. Cosa è successo? Aspetta, lo metto fuori io. Ecco fatto. Sì, il riso è ancora vivo, ma il riso è attivissimo, top detentore del canale. Sì, ormai, altrimenti, stamattina sono entrato preoccupato in casino. Io era live tutto nero. Ah, tra l'altro Hertz è diventato mod di EveryEye. Benissimo. Ma lo stanno rubando tutti ormai. Il riso stessimo. Vabbè, poi te lo ruberò Final Fantasy VII Remake. Ho fatto una recensione un giorno praticamente sul mio canale. Io ho dato, i voti sono stupidi, ma io ho dato sei e mezzo. Davvero? Così poco? Non l'avevo visto quella roba? È molto, non è poco. Ah, è molto? Ok. Molto. Sei e mezzo è un gioco che compro e che gioco. tutto. Io ho dato sei e mezzo, sette meno. Sì, sì, sì. Tu l'hai giocato? Non ancora. Non ancora. Ti piacerà? Le prime ore sono veramente straordinarie da vedere, però il fatto è questo, che ho cercato di... perché abbiamo la prima domanda da fare quando devi parlare di un gioco, così è... ok. Perché fanno i remake? E ho preso come esempio, secondo me, il perfetto, Resident Evil 2 Remake, che io e te abbiamo amato in maniera extromega, ok? I remake vengono fatti sia per far rinnamorare quella gente che a tempo faccia, spesso ore, e che è stato un po' l'infanzia, quindi fattore nostalgico. Vengono proprio fatti per questi remake e anche principalmente per far scoprire alle nuove persone che non hanno avuto il modo di innamorarsi di quella roba là e magari retro gaming non è una imposizione che il mondo del gaming fa sul videogiocatore, puoi non giocare alla roba che è uscita tempo fa e puoi anche dire a una grafica di merda non la gioco perché magari sono i tuoi gusti. Quindi per far scoprire sta roba qua alla nuova gente. Farò frente ai sette non si propone per niente per i nuovi, per niente, secondo me. Si promuove solo per i vecchi ed è per questo che molta della gente che ci ha giocato, a cui aveva giocato anche quello vecchio, ci perdona delle lacune palesi che ha il gioco. Se vuoi te ne dico due senza spoiler. Ma vai, voglio. Tanto prima o poi lo giocherò anche io. Il gioco sembra, il gioco dà delle backstory a tutto, 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 tutto. E se a volte non sembra un allungamento di brodo perché effettivamente la roba di Jesse, Wedge e Biggs, i tre dell'Avalanche all'inizio, là effettivamente ci stava, far sapere chi erano, le loro motivazioni. Perché comunque in Farò frente ai sette succede una roba assurda a loro e succede subito e non ne parlano più. È innaturale. Quindi il fatto che l'abbiano fatto qui bene, però lo fanno veramente con ogni altra cosa e senti la pesantezza. Il gioco sembra non osare da questo punto di vista. È difficile fare un remake di Farò frente ai sette perché Farò frente ai sette spesso tutto quello che la gente reputava bello è invecchiato male. Quindi devono prendere questi elementi invecchiati male e cercare di riproporli però senza cadere nell'ok ma adesso siamo nel 2020. È veramente un casino. In più, io l'ho completato al 100%. giocarlo in hard dopo la prima volta, mamma mia Dario, che trauma è apparso super ripetitivo, il combattimento dopo un po' diventa complesso zero. È una cosa curiosa di cui ho parlato io nella recensione, è stata che Farò frente ai sette, nonostante tutti lo abbiano come il Final Fantasy, in realtà come combattimento non era per niente complesso. Complesso diventa solamente nell'endgame, ma effettivamente il gioco, se capisci due trucchetti, puoi fartelo tutto con gli attacchi. Tutto quanto e con qualche maniera di supporto. Sono riusciti, non so come, a fare questa stessa cosa nel remake. Puoi fregartene delle strategie. Merda, ma così no, puoi sbattertene delle strategie. Poi, io ho completato il normale, perché all'inizio non te lo fa iniziare hard, io sono un hardcore boy, quindi inizi sempre ad hard, non te lo fa selezionare, lo devi fare in normale e poi in hard. Il normale è una burla, e va bene, perché il normale, la cosa che mi portava avanti non era vediamo come è il gioco e vediamo com'è la storia, che è sempre stato l'incipito di Final Fantasy. Final Fantasy non si sono mai presentati come questo è il gameplay finale, no? È sempre stata una scemenza. È sempre stato un JRPG molto commerciale. in hard, che mi aspettavo, ok, Fall Fantasy è sempre stato quello, però è sempre stato anche nell'endgame e nell'hard troviamo chissà quale sfide. Amico mio, delusione finale, pochissimo complesso, e succedeva esattamente questo. La storia fa conto è 100, ok? Progredisci fino a 30, in modalità hard, e trovi il boss che è un po' più forte degli altri, quindi la strategia che ho usato fino a quel momento non funziona, pensi un altro che mi dici, aspetta, ma io ho questa materia qua, non l'ho usata fino adesso perché non c'era bisogno. Usiamola, la metti, lo distruggi. Tutto questo fino a 70, oh, un altro boss che ha un'altra strategia, ma io ho questa materia. È sempre stato un... ok, sì, usiamo quella cosa là che avevamo messo nel cassetto e che finora non l'abbiamo usata per battere questa roba qua. Non te lo impone per necessità, come dovrebbe fare un gioco che ci mette anche un po' di complessità, perché Fall Fantasy sicuramente non è stato mai super difficile, però è sempre stato abbastanza complesso. Le materie erano una roba figa, le junction erano fighe, il fatto che venivano usate come una minchiata e che non valevano niente non è importante, era figo come concetto, però sono riuscito a fare la stessa cazzata anche in questo. Complesso, ma non necessario. Lo usi semplicemente perché sennò poi non puoi più andare avanti. Cioè è rimasto un gioco vecchio? E io... È rimasto... è rimasto un gioco... il fatto è questo, che Fall Fantasy 7 aveva davvero tantissime opzioni per completare la storia e tu ne usavi tre. Potevi usarne tre, anche una potevi usarne. Quello là nuovo, ne ha cancellate tantissime, è buono così, inutile avere tante opzioni se poi non ne usi, però rimane... continua a rimanere per niente... cioè ne ha cancellate tantissime, ma quelle che sono rimaste neanche servono, ne devi usare una o due. Però viene... ingiustificatamente compensato tutto questo dal fatto che i combattimenti sono bellissimi, ci sono davvero tanti boss e quei là in più che hanno messo non sembrano fuori posto. Ho detto certo che c'è questo adesso, anche se non c'era nel gioco di prima. E quindi un po' lo perdoni per questo motivo qua, ma alla lunga... ed è... è alla lunga è una... un pezzo di frase da sottolineare perché alla lunga è quello che rendeva i fallofanti di tempo fa, i fallofanti di tempo fa, alla lunga scoprivi una complessità in quelli di tempo fa che era... oh mio Dio, era oddio, ma veramente così tanto c'è? Quindi la storia è una merdina in confronto a quello che c'è oltre... Un po' come quello che c'è nel 10. Esatto, pensavo proprio a quello l'amico mio. E invece qua zero. Zero complessità, l'endgame è una burla. Infatti io l'ho ricomprato Final Fantasy X per Switch, proprio perché leggendo le recensioni prima di comprarlo ho letto che era rimasto esattamente come il gioco che giocavo io da ragazzino. Sì, 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 sì. L'hanno solamente migliorato un po' le musiche e la grafica, che era quello che comunque serviva perché Final Fantasy X era un gioco abbastanza perfetto per tempo fa, però ti dirò, con alcuni giochi che sono usciti nella nuova generazione, porto sempre questo esempio perché secondo me è il capolavoro degli ultimi decenni, Sekiro. Sekiro riesce a fare qualcosa che è un po' eclista quelli che erano i ragionamenti nostri da gamer, che prima reputavano un gioco bello se aveva tante cose. Final Fantasy X ha tante cose, GTA V ha tante cose, però avere tante cose, ma avere la necessità di leggere su internet per scoprirle è un po' una cazzata. Puoi metterci tante cose, ma se il gioco non ha l'abilità di farti venire la curiosità di dire, vedi che se vai qua completi questa subquest, allora è una minchiata. È solamente un cercare di giocare tantissimo. Final Fantasy X, io mi ricordo che quando ero piccolo, la gente se la flexava sul suo salvataggio. Eh, ma io ho 800 ore. Ma ho 800 ore di gioco. 800 ore è ossessione, non è un gioco che effettivamente dura 800 ore. Final Fantasy X devi farmare con un fio di buttana. Un Zulab maledetto. Esattamente, che per quanto possa sembrare quello che rappresentava i videogiocatori di un tempo, è comunque perdere tanto tempo davanti a un solo gioco. Giochi come Sekiro, Breath of the Wild, fanno qualcosa di veramente nuovo e di finalmente accomplished, ovvero riescono a farti fare la maggior parte di quello che il gioco offre semplicemente tramite la morfologia del terreno e ci vuole uno studio incredibile, ragazzi, Breath of the Wild è veramente, c'è da inchinarsi. È anche quello che vedi durante le quest. Io, se ho un bivio davanti, devo sapere che sto andando a sinistra, ma devo ricordarmi che c'è la destra. Non devo ricordarmi che devo andare, che per sbloccare quella minima cosa devo andare a sinistra, poi cercare di andare un po' a destra, poi di nuovo a sinistra perché si sblocca una nuova cosa. Farò Fantasy X, era così. Non vuol dire niente che salti una cosa e il gioco te la toglie per sempre. E' bastardi. palesemente crea una longevità farlocca. Era una meccanica antica, capito? Una cosa che si faceva spesso. È antica, antica. Final Fantasy VII ha tolto tutto questo, puoi effettivamente fare tutto senza l'ausilio di internet ed è questo che un gioco deve fare. La gente parla di Dark Souls, va bene. Però ha veramente tolto troppo. Final Fantasy VII ha tolto troppo, ha spogliato quello che era Final Fantasy VII non solo dell'inutile, ma anche del necessario per essere un gioco che rimane. Ok. Trova, tu volevi fare una domanda prima. Io? Sì, sì, sì. Intanto Marco, recensore, impartiale oggettivo. Sì, sì, totale. Hashtag. Io non ci ho giocato, ma visto che tu, da quello che ho capito, è un po' tipo action, ma è più simile a Final Fantasy XV, diciamo, a Kingdom Hearts. Poco una domanda da fuori da profano. Sistema di combattimento. Che ne pensi? Final Fantasy XV era veramente quadrato, triangolo, triangolo, e poi morivano tutti. Diciamo, secondo me almeno. Kingdom Hearts... È un po' Crisis Core, però più 15 che Kingdom Hearts. Ma poi dipende quale Kingdom Hearts parli. Il terzo, per esempio, è pieno di roba anche troppo, ti danno tutte le possibilità per ammazzare la gente pure troppo. Il primo invece ha un sistema... È più simile al primo, è più simile al primo, con la differenza che nel primo scegli le magie e le azioni esterne da quello che è l'attacco singolo. In tempo reale qua si blocca tutto. Ah, ok, quella è la parte ATB che hanno detto che si è... Secondo me è figo. Anche perché a volte tu attivi l'area ATB ed è bello proprio vedere tutto che va al rallentatore benissimo. Ah, quello l'ho visto, quello l'ho visto. E spesso mettevo pausa dove c'era Tifa, che veniva colpita, tutte le scintine, bellissimo. Ok, grazie. È bello perché puoi farti quella regia mentale da giocatore, tipo... Se ne parlava l'altro giorno, Marco, te Legend of Dragoon l'avevi mai giocato ai tempi di PS1? Bello, cazzo. Ma certo. Magari facesse le rimecchie di quello. Improbabile, secondo me. Già, infatti. C'è Legend of Dragoon, poi si parlava ieri di Star Ocean, mi pare, anche quello fighissimo. Alundra. Mi, bro, Alundra, il primo. Suicoden. Bro, Suicoden 2 è il mio GLPG preferito. Jade Cocoon. Sono tutti... Mamma mia, bro, io ricordo... Ce l'ho tutti qua, un giorno quando vieni a trovare me, Marco, ti faccio vedere la collezione di giochi di PS1, ce l'ho tutti qua originali. L'ho pagato in uno stonfo, maledetto. A due, a due, a due, a tutte queste robe che palle giocate. Sì, sì. GLPG, bene o male, con la roba vintage ho giocato tutto. Però, GLPG preferiti, cioè Final Fantasy 6, Uno dei migliori. Dragon Quest 8, Dragon Quest 3, i 5, l'ultimo mi è piaciuto molto, Final Fantasy ti posso dire anche di quelli per l'epoca PS1, quello mi ricordo meglio, forse l'8. mi piacque, mi piacquero tutti. Beh, l'8 è una mia preferita. Però, veramente, dovrei ricercarli tutti, perché su quelli che mi hanno suonato il citofono, su quelli che mi ricordo meno, i Final Fantasy. Eccomi. Eccomi. Parlo con i miei amici di Final Fantasy perché non hanno giocato nient'altro. Dragon Quest, Dragon, Dragon Quest, non l'ho mai reputato, cioè sono veramente giochi diversissimi, si basano su robe veramente diverse. Però sì, ho sempre preferito Final Fantasy da Dragon Quest. Dragon Quest è più antico, cioè in tutto, praticamente, nei menù, nelle meccaniche di gioco, nei mosti. Ma è antico perché dà valore all'antichità, non vuole, non è presuntuoso come gioco, si propone in quel modo, non vuole essere nient'altro. E poi, vabbè, c'è stato ultimamente Persona 5, devo dire che proprio va, va, va fatto uscire di testa. Io l'ho giocato quando uscì, in versione normale, adesso mi sto facendo in live la Royale, con molta calma, perché è in italiano, quindi ci stiamo proprio godendo tutti i dialoghi per Benino, tutti confident, eccetera. Certo, è un JRPG misto a un dating sim, quindi è una cosa molto diversa. Sì, forse è il contrario, in realtà nasceva come spin-off Shin Megami Tensei, era un dating sim, praticamente, di Shin Megami Tensei, con delle meccaniche JRPG, e questa cosa un po' l'ha mantenuta. Non so come il diavolo abbia fatto a conquistare così tanti occidentali, con questa quinta incarnazione, però, però, sono contento, perché è figo. Ora cercherò di recuperare anche gli altri, dato che è l'unico Persona che ho giocato, quindi, vediamo. Xenobel Chronicles l'hai giocato te, Dario? Sì, sì, l'ho giocato. A me non è che me l'abbia atteso tantissimo. Anche quella è una roba molto, molto diversa, molto diversa da tutto quello di cui abbiamo parlato adesso. Molto giappo. Sì, parli di quello per Switch? Come, Marco, scusa? Parli di quello per Switch? Sì, sì. I JRPG di adesso stanno veramente... È lì che il gusto occidentale sta mettendo un po' di ostacoli, perché in Giappone ancora va molto, e Dario lo sa, il creare un rooster di personaggi di un JRPG ancora super stereotipati, la ragazza, il protagonista scemotto, ma il prescelto, il suo amico forzuto, ma è un po' scemo. Buono come il pane. Va ancora questa cosa qua. Mentre invece qui, dopo tutta la cinematografia di Avengers e dopo Harry Potter, tutto quello che abbiamo scoperto, che il cinema e tutti i media si sono molto più interessati di dare un background psicologico a tutti quelli che sono i personaggi, Joker, prima era quello là che faceva ridere, adesso è quello là che è Damage, no, vaffanculo. Adesso non ci basta più lo stereotipo, perciò è veramente invecchiata malissimo sta roba qua. Xenoblade Chronicles 2 è proprio incappato in questa roba qua. Io c'erano momenti in cui non vedevo l'ora che finissero di parlare. State di picchia, picchia, ho detto, ho fatto caso che devo leggere. Da quello che dicevamo ieri delle Seven Deadly Fins, praticamente, su tutto il stereotipati, molto giapponese, loro lo fanno, lo fanno. Però ci sono incarnazioni di questi stereotipi che funzionano lo stesso, perché secondo me la prima stagione di My Hero Academia funzionava tantissimo, nonostante Paco fosse lo zunderino classico, incazzato col mondo e tutto quanto. Ma in una maniera veramente eccessiva. Sì, 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 eccessiva, eccessiva. Cioè, certe volte non aveva proprio senso quel suo modo di fare. Basta, abbiamo capito, fermo. Poi All Might l'eroe incorruttibile, Deku, cioè Midoriya, comunque a bumolo. Ciao Simo. Midoriya, lo sfigato che però diventa incredibilmente forte. È molto aiutato My Hero Academia dal fatto che comunque si parla di supereroi e superpoteri e la Marvel e tutti quelli che ci hanno messo il proprio hanno proprio detto che per funzionare una roba così deve essere stereotipata. Lui è quello che spara i raggi laser da una tuta di metallo, quindi è logico che è l'intelligentino. Lui è quello che fa esplodere tutto, quindi è certo che è incazzato. Se si sposa bene col proprio potere su quello che rappresenta nel mondo, allora lo stereotipo va bene, però in mondi complessi e pieni di sentimento come quelli dei GLPG, mamma mia vedere ancora la ragazza che fa, ma sei sicuro? Sì! Ci sono due Marco, attenzione. Va bene, anche se uno ha la barba crespa allora è Marco, automatico. Però visto che adesso Simone c'è la più lunga della mia sono io Simone. Va bene. Vai facciamo così. lo accetto bene dai ci sono, ho dormito quindi va bene poi vabbè ho visto che sei rimasto abbiamo parlato anche brevemente sei rimasto un delusino anche te dare esempio il 3 mamma mia troppo bro volevo un 2 ma ho ricevuto un 3 che poi è un po' quello che successe anche alle generazioni PS1 hanno fatto il remake di quell'epoca che bello non si dovrebbe far così ma ok anche Final Fantasy Metal Gear io ho sempre amato la saga quindi Marco in maniera spasmodica prepariamoci al remake di Metal Gear 1 l'hai finito Final Fantasy sarebbe fighissimo me lo faranno, fanno solo un remake i remake dell'1 già l'hanno fatto quello per Gamecube mi si amava è una cifra di tempo fa però sì 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 l'altro era bellissimo quel remake lì era migliore di quello originale ciao Bisnick grande Bisnick Konami che fa gioco Marco Disgaea ti sei mai avvicinato a Disgaea? sì e anche la Pusell Final Fantasy Tactics è uno dei miei preferiti ok che bella roba che bella bella roba questi erano un po' i giochi underground di tempo fa ma che se li scoprivi avevi sia il vantaggio di aver scoperto qualcosa di super complesso che lo svantaggio di non poterne parlare perché tutti costo Final Fantasy mamma mia è soprattutto infinito cioè infinito vero i Tales of ci sono anche che sono un po' a volte già chi non ne parla mai Tales of bellissimi anche per PS1 erano mamma mia hanno veramente creato il genere del RPG 2D figlissimo io di remake veramente vorrei vedere ma non lo faranno mai perché credo venderebbe tre copie vorrei vedere un bel remake di Apescape mi piacerebbe vedere ma ha bisogno di un remake se Apescape 1 fosse uscito in questo periodo avrebbe conquistato il mondo è proprio uno di quei giochi da steam che dici costa 12 euro ma che lo giochi e lo portano tutti i gameplay del pianeta ma soprattutto secondo me l'Apescape più bello di tutti è il 3 che aveva tutte le trasformazioni del mondo e poi soprattutto le scimmie avevano invaso tipo il mondo del cinema e quindi c'erano citazioni a tutto c'era tipo la scimmia che era rimasto solidifiato come Han Solo in Star Wars c'era la scimmia esorcista c'era citazioni veramente a tutti i cinema del mondo bellissimo veramente anche i boss erano fighi tutto doppiato in italiano tra l'altro era veramente niente purtroppo sono rimasti un po' dimenticati era un gioco avanti era un gioco a remake no io no no ma Marco tipo non è che era contentissimo di avere remake mi significava proprio un cazzo mi pare secondo me non è stato una grande grande acquisto è Made Evil quello che è uscito a ottobre si ma perché lo fanno di tutti per cercare ma sai penso che a volte c'è la maggior parte delle emiche che buttano fuori è solo per coinvolgere magari noi che ci si giocava da bimbetti la metà si minimo ma poi ho notato che proprio la memoria ti frega tantissimo cioè riprendi mano mamma mia sei convinto ah boi ma che gioco questo era un gioco veramente incredibile poi lo rigioia adesso e fai babbo forse no per l'epoca magari c'hai giocato che c'hai magari 12 ma una cosa bellissima che ha detto quello di The Prald che quando ha rigiocato a Spiro remake fa ok adesso è bello ma io da piccolo lo vedevo così uguale e poi lo va a vedere non solo cubettoni incredibili capito quella è una fantasia pure che faceva tanto ma guarda Spiro di questa di questa wave di remake platform 3D secondo me è stato quello più bellino che forse è meglio di Crash sì anche se molto meglio di Crash sì 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 è vero Raps ora leggo tutte ragazzi le recupero tutto tutte le Legacy of Kain sarebbe bello facessero remake micchiazì lì ha voglia di lore lì boia Sabaku ci va avanti per due anni Legacy of Kain sorrive ragazzi bello wow c'era anche Blood 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 Demon wow Pandemonium boia vigilante 8 vigilante 8 poi c'era se si va ancora ma ti ricordi vigilante 8 sì certo io ce l'ho vigilante 8 è qua non penso di aver mai detto vigilante 8 d'altra bocca con qualcuno che fa sì sì PS1 c'ho di tutto Marco se apro il vaso di Pandora c'è qualsiasi cosa e Ronaldo v football libero grande è comprato solo per l'Inter poi c'ho lo sai che io Marco ho l'ultimo gioco mai prodotto per PS1 che è un gioco esclusivo per il mercato tedesco che si chiama Snappy ed è tipo un albo da colorare però interattivo videoludico è molto bello sicuro che non sei il primo dell'ultimo no no è l'ultimo è l'ultimo il primo è se non è il primo è Ridge Racer il primo Ridge Racer bello figurati bello vabbè poi ve la faccio vedere la collezione quando si riesca a spostare un po' vabbè è come se anche se ti masterizzassero tipo l'hanno già fatto l'hanno già fatto ma è che bellissimo Matteo bellissimo ora fanno il 2 anche Soulstorm fanno il 2 ah sì ma Soulstorm è il nuovo ah il nuovo proprio e il 2 come si chiamava Exodus ah Exodus quello dove devono fare la bibita con le ossa degli avi ok quello è il 2 perfetto non avendosi la PS boi quello era meraviglioso ragazzi non ero stato informato c'è anche per pc ah già ma te c'hai mac io l'ho scoperto pensa che l'ho scoperto perché c'avevo il demo della PS1 eh vabbè quelli erano tosti eh la demo 1 c'avevi cool award mi manca di quelli storici non ce l'ho cool award non ce l'ho ancora Bugs Bunny Lost in Time certo che ce l'ho ed è incredibile boi il cazzo per controllare Bugs Bunny era impossibile cioè tutto fatto male vabbè non prendevi danno ai quella volta era quella della pallina ci vediamo merlo diceva sempre ma ve lo rivedo ancora Marco invece ti chiedono opinioni su Final Fantasy 12 non è piaciuto per dire beh io non parlo più Endgame pazzesco i personaggi mi sembravano dei ricicli di cose vecchie infatti io li chiamavo Titus Yuna Ricco Van c'aveva la personalità di sto posacenere guarda sì sì era però hanno refreshato tantissimo il gameplay quella cosa l'ho veramente apprezzato quello era bene infatti a me è piaciuto quel gameplay esattamente per la prima volta un Final Fantasy che mi è piaciuto per il gameplay faccio ora voglio fare la stessa domanda a Marco che ho fatto ieri a Michele visto che comunque è stata una discussione abbastanza accesa hai finito il set remake giusto ok cosa pensi del fatto che potrebbero aver riciclato alcune cose dal 13 tipo tipo il cristallium con i nuclei tipo la percentuale di estremo allora la percentuale di estremo io quando la giocai nella demo che ero in Germania e mi sentivo tutto il vippino a provare tutto a provare per la prima volta quella roba la prima degli altri mi ha fatto solo incazzare e ho deciso di non essere un vippino perché ho detto oh no però la percentuale di estremo in Final Fantasy 13 specialmente nell'endgame ha bisogno di formule che devi scriverti nel muro seguire solo quelle che palle dove la strategia se devi fare A quando c'è A e B quando c'è B cioè Final Fantasy 7 la percentuale di estremo può essere effettivamente alzata con altre cose o puoi anche fregartene molti boss se non sei abbastanza bravino o te ne freghi a volte io me ne fregavo e mi dispiace non li facevo semplicemente raggiungere lo estremo volevo solamente che il combattimento fosse più lungo perché era figo di stricarsi fra i vari personaggi eccetera eccetera non andava mai in estremo e loro morivano in quel modo un po' da nubini però boh chi se ne frega puoi fare effettivamente in quel modo là puoi non puoi fregartene su Final Fantasy 13 devi fare quella cosa per forza lo vedo un po' riduttivo mentre invece per qual'era l'altra cosa che avevi confrontato il cristallium quella roba è veramente inutile ma che cosa serve a farti perdere tempo nel set o nel 13 nel set ma perché allungarlo il fatto è questo ok le armi hanno un'abilità che puoi imparare io l'ho contate per imparare un'abilità devi farla sette volte sì per giù sono due combattimenti e su per giù due combattimenti sono due minuti di gioco se sei in un'area dove si combatte ma allora fatele sbloccare in un altro modo non fatelo sembrare complesso se puoi una sciocchezza no ma io parlo dei nuclei dei potenziamenti io parlo delle armi in generale questa è una delle cose il fatto è questo che questo è ancora più complesso i nuclei i nuclei entri là e ci impieghi i punti boh il fatto è questo che i nuclei danno la cosa più importante dei nuclei è il fatto che danno la capacità materica che ti aumenta le materie le materie in front of the sette remake sono un po' una sciocchezza puoi farti gioco veramente con tre forse due perciò io in io in Arda andavo avanti che avevo HP Up ah l'hai finito anche in difficile si HP Up preghiera ovviamente e barriera ok e a volte quando diventava difficile mettevo sprint ma quello proprio se volevo fare il il pazzo l'ho trovato non lo so a volte quando sono arrivato in Arda avevo notato che non avevo completato nessuna dei nuclei e che semplicemente per prendere il trofeo e per avere tutto li ho fatti ma li ho fatti veramente in un'ora tutti i personaggi e un'ora solamente perché tutti i personaggi stanno insieme solamente alla fine e neanche quindi era un attimo un aspetto però ho cercato di non vedere tanto le similitudine col 13 perché se no mi incazzavo e basta sono riusciti comunque a farle un po' diverse tu le hai viste invece molto simili? no più che altro poi alla fine ieri con Michele non ho risposto perché giustamente ha parlato praticamente solo lui ripeto Michele chi? Sabaco ok giustamente l'unica cosa che mi è stata un po' sul culo a me sinceramente è che a parte la somitazione mi lanza col 13 ma comunque io da buon profano ripeto anche a Marco che il 13 a me non mi è dispiaciuto non come Final Fantasy ma come gioco in sé secondo me non è un brutto gioco se lo chiami Final Fantasy poi quello è un altro discorso ma l'ha già spiegato tutto ieri Michele il fatto è che il potenziamento delle armi secondo me non è così personalizzabile come ci vogliano far credere perché te che hai giocato in Arda hai visto che quando hai finito il gioco se fai in Arda ci sono altri tipo 45 volumi che ti danno puntiabilità e quelli sono totalmente opzionali poi anche non prendi quindi finire il gioco in Arda con o senza quelli in realtà non cambia niente e anche se li prendi poi comunque un'arma è tutta cioè non è che puoi personalizzarla e dici ok allora preferisco sacrificare uno slot materico per avere 300 HP che mi possono essere utili per una boss fight no sono tutte uguali cioè se te completi tutti i volumi l'arma diventa così di default la completi fine dicevo questo proprio prima dicevo che la complessità che è notata a questo gioco non è necessaria per scoprire tutto il gioco esatto semplicemente è una cosa che devi riempire in modo da dire l'ho fatto esatto si si è un completismo forzato è vero esatto comunque Marco dato che siamo sempre stati su YouTube eccetera abbiamo sempre seguito Zeb non so se avrai mai questa coccarda ieri sono stato dissato in live da Zeb89 davvero? io la coccarda ce l'ho da un sacco amico mio no vaffanculo e lui mi aveva dissato a me tantissimo tempo fa ti prego racconta cosa hai detto? allora io ho fatto un... io non so perché a volte mi venivano questi stupidi non lo so che cavolo avevo dove facevo questi video che erano cantati però in maniera rap però incazzato tipo un giorno sono andato lei ho visto questa cosa e li facevo rimati e dove parlavo di situazioni non lo so era strano il rap e metal si si erano stupide e l'ho fatto su YouTube Italia perché era c'era stata la prima ondata di gente che come contenuto portava il parlare di altri una roba che a me non lo so vabbè lo ho scritto una scemenza o comunque un facile contenuto puoi farlo perché gli altri esistono e gli altri aumentano quello che è anche il tuo lavoro perché sono tuoi colleghi che stanno facendo contenuto di riflesso ti colpiscono anche te però è un contenuto facile è un contenuto facile anche perché io posso pensare di Simone che è un cretino e Dario può pensare che invece è intelligente non è che è un po' un quale team scegli ed è una cosa scema secondo me e parlai proprio di questo e in più Zeb io non l'ho mai 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 seguito conosco il meme e penso che se dovessi andare a vedere Zeb cadrebbe un po' il meme preferisco più andare dietro quello che è la roba infatti lo apprezzo molto come personaggio meme sta roba qua della pizza mi fa molto ridere però non ho mai visto un suo video perché preferisci sognare no ma preferisco sognare ma in realtà io non guardo i video in generale di Youtube Italia ho sempre avuto stato un po' da stupidino la dico guarda che flexo però è sempre stato così un po' quando infatti ho fatto quel video là lui mi ha dissato fortissimo facendo proprio un video perché pensava ce l'avessi con lui e infatti io ho scoperto che lui parla molto d'altri non perché andavo a guardarlo ma perché mi aveva dissato nel video ho detto ok adesso come informazione ho che Zeb parla degli altri comunque critica io ho scoperto così la mia lore di Zeb è nata grazie a questo cazzo di Dario Mocce e le sue reazioni che andavano nella buca degli altri per non guardarle però questa qua praticamente l'ho vista diceva un sacco di scemenze ma perché io non stavo parlando di lui però sì non stavo parlando di lui però sì quello che è successo è che per puro caso mi sono trovato in una chiamata Skype minchia ragazzi ma vi ricordate quando Skype era che potevi in distanza ti ricordi Marco quando buttavo gente a casa ti buttavo sempre dentro anche te minchia si conosceva quello era dopo Dario Skype prima era un social dove tu entravi creavi una stanza chiamata videogiochi e diventava pubblica e tu potevi entrare in questo social ah no no non lo sapevo non lo sapevo ma che è sta storia tipo team speak tipo team speak un po' strano però sì ma veramente fatto meglio con un'interfaccia di nuova generazione era pazzesco e poi è caduto perché in Italia non lo usava nessuno ma nel mondo in realtà vabbè mi sono trovato in questa chiamata dove si parlava di videogiochi però io a volte stavo zitto e infatti stavo zitto e vedevo che vabbè passavano i minuti e vabbè se ne andava quello perché doveva andare a mangiare se ne andava quello ah me lo ricordo me lo ricordo me lo ricordo ci rimane Marco Merrino e Zevo 89 lo scontro sì 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 e io mi ho detto wey e lui e lui scriveva io parlavo lui scriveva e mi ricordo che senti ma di quella storia wow che figata che è successa questa cosa fra di noi e lui mi rispose con non mi interessa niente a me non me ne frega un cazzo proprio così ho fatto lui il video io ho detto no sì lo so che non te ne frega però vedi che non io non ti conoscevo neanche non prenderla male ma neanche a conoscere le persone io le smerderei se non per scherzo in più sai bene che l'Italia purtroppo è così e io ho fatto video su sta cosa ma è proprio una cosa innegabile non è un mio parere sta succedendo questo e lui mi aveva detto che non ce l'aveva con me che era la cosa che mi interessava e poi abbiamo fatto un papiro su quella che deve essere l'etica dei video che non ho letto però mi però mi interessava il fatto che comunque non ce l'avevamo scontrati ok ma invece mi dici a me cosa è successo ma no nulla ha detto che ha fatto una clip perché la gente lo invitava nella mia maratona al mio posto quando in realtà non cioè ho detto ragazzi ma no non vi ho detto Zeb tanto non verrà mai la gente vai live maratona da Dario e tipo lui ha detto beh a me non piacciono quelle persone lì senza nominarmi ovviamente perché non mi piace non fanno gaming non hanno talento e quindi si riciclano su Twitch una cosa del genere ma vabbè ha detto che non ho talento per il gaming e Twitch non ho talento per il gaming sì e praticamente non ha senso perché Twitch non è fatta per il talk è fatta per il gaming e quindi non ha senso quello che dice perché c'è però vabbè però mi ha fatto devo dire qualcosa mi ha fatto veramente piacere mi è fatto piacere però è stato bello ma parlava di te come? ma parlava di te sì sì c'era il commento perché non sei andato da Dario in maratona cioè come se cioè dovesse farlo per forza comunque però sono dei bastardini vogliono un po' aizzare sì vabbè ma io ieri ho risposto vabbè Zeb per me ricevere un dissing da te è come avere una coccarda sul petto quindi ma non può dire niente comunque non è per sì vabbè Marco ma di cosa stiamo parlando? cioè Twitch Twitch è fatto per ormai è la seconda categoria più vista al mondo il talk just chatting cioè di cosa stiamo parlando Twitch si è evoluta non è più come un tempo ciao a questo ciao non è più come un tempo quindi che cazzo vuol dire? non si può fare talk su Twitch ma chi l'ha detto? ma perché? hai lasciato il posto tra gli Amiibo? anzi è fighissimo il fatto che l'Italia è l'Italia solamente si sta veramente discostando da quello che Twitch mondo creando il suo una cosa che non ha mai fatto con nessun altro social dobbiamo veramente dare importanza a sta cosa cioè l'unica cosa buona che era successa su internet italiana è volevo resmerdarlo effettivamente ma anche se Dario avrebbe trovato un'altra cosa da dire capisci? ma si ma poi ma chi se ne frega è Zeb non sono sicuro che faccia a faccia diventerebbe uno dei miei migliori amici ma non mandare questa clip perché ovviamente mi odierà no io dico solamente un'opinione ok mandata io non lo so ma chi se ne frega io non penso però ha tratto ha tratto pericolosamente da Zeb in maniera amore e odio chissà se vede la clip che mi ha di faccio sleep in streaming boia impazzisci ieri notte no ieri notte no c'è stata la notte del mare vabbè Marco che adesso ci può dormire su Twitch si? si da un po' si si lo farò io fra poco perché c'è mio fratello che sta in stanza con un nostro inquilino che è russa da morire a volte mio fratello si mette veramente a piangere che non ce la fa più e quindi questa live l'abbiamo chiamata sogni d'odio bellissimo dove lui dorme qua da me e c'è è la prima telecamera la prima scena è lui che dorme qua a posto e abbiamo tipo Daniele che gli porta le cose gli fa da servo mentre invece io dormo là in quel letto di merda con Danny Metal che Dario ha pure conosciuto si ho conosciuto è un grave e dormo là per vedere com'è quella sarà la seconda scena quindi vediamo vabbè non è malissimo no come format è divertente secondo me si fai pure un'intervistina esclusiva si c'è bella madonna l'intervista esclusiva a Marco Merrino è bella si l'ho rivista anche poco tempo fa io Marco che succede c'era Simone tra l'altro la reunion che rideva sotto Marco bellissimo che si sveglia e sorride ma ti dirò Trono quando io mi sono svegliato si avevo ho avuto due attimi di secondo nel primo ti sei spaventato no nel primo ho capito che era uno scherzo il secondo dovevo mettere ogni forza del mio organismo per fare qualcosa di divertente per me era una prerogativa e quindi c'era questo bounty e io senza ma l'ho mangiato anche se è bello che lo mangi e poi ti ritiri un po' dentro il tuo rifugio anticipato Gischianto e poi hai fatto un accenno di hai mai giocato a due punti qualsiasi cosa hai fatto un accenno anche a quello ma lo sai che quel meme c'è ancora si si immagino ma poi Twitch penso ti sia servita anche per servito per proporre tutti i tuoi vecchi meme esatto come come si chiama il gioco di Ciccio tipo Dungeons and Dragons Fantasia Fantasia ecco si si ho visto anche qui ne sta uscendo uno nuovo ah ok 2.0 no 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 Fantasia è la console i giochi sono diversi i giochi ok noi l'altra volta abbiamo giocato Escape from China ed era un gioco che quando stava per arrivare non ancora si poteva uscire si chiama Escape from China dove tu eri questo scienziato che facevi cadere tu il virus e dovevi scusarti col mondo poi c'era la pandemia adesso c'è un nuovo gioco l'ha spoilerato l'altra volta lo stanno programmando si chiama Liccardo storia di un uomo no ma Liccardo secondo me sai sparirà com'è arrivato sparirà a breve secondo me certo certo Marco potresti puntare 600 sul nero grazie vabbè ok Marco racconta quando è cagata a casa di Dario no cioè la odiamo tutti e due quella cosa credo no 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 la odi anche te non è vero mi hai detto che palle Dario me la chiedono sempre se poi come al solito godi comunque un pochino dentro di te ogni volta che te la chiedono io la odio per motivi diversi dai tuoi tu perché te l'hanno detta tutti quanti io perché con me non è mai stato ah ah Marco come quella volta là ma è stato un ma era vera quella storia no ho mentito ho detto una grossa bugia per fare news una fandonia grazie a Riser per lei ci racconti quella volta io comunque ho sentito ovviamente la paura e l'imbarazzo in quella storia cioè era tra l'altro la stessa sera di quando si è girato l'intervista sì sì tra l'altro sì era quella sera lì ma io mi ricordo che eravamo solamente io e Dario e allora era la sera dopo che sono andato era la sera dopo sì è vero che poi la gente andava la sera che è dormito e poi ha fatto l'intervista boh non lo so è stato un po' mi ricordo i commenti sotto al video che diceva qua già aveva fatto il danno e dormiva sì perché poi la gente andava nei video correlati riusciamo a dire ah qui è successo questo è il prequel questo è il sequel questo è il sequel esatto bravi è bravi è tutta una porra mamma mia ragazzi siamo adesso a Bacu 30 episodi fai entrare Simo Simo chi ragazzi che succede che succede che succede mi chiedevo recuperare grazie a Ennen per l'abbonamento io devo recuperare un sacco di roba grazie a Raviola la ricotta per l'abbonamento Zenigata eh vabbè lo so in realtà non va bene con la roba te l'ho detto prima alla mente di Edux grazie grazie a Tommaso Chiarin per l'abbonamento a Sinops a Roberto alla potenza per l'euro passatevi il Calumet della pace ma veramente un'ora fa tra l'altro sto momento ormai Paladino del Farmaggio grazie per l'euro amici anche voi vi infilate i fusili nell'uretra per pisciare a spirale no grazie a Raffaelec Simone Cioia per l'euro ciao Marco pensi che mani buca questo l'ho già letto Blackstar grazie per l'abbonamento Tommaso Chiarini Dario ma anche tu vuoi essere un padre goliardico come Gischianto no no mi va bene essere un padre normale Puccio Cantuccio grazie per l'euro la prova del passato un po' come quello di Stashat sono sui brè e Fossa ringraziato per i Pippo Listo volando cos'è Pippo Listo comunque grazie per i 3 euro i Pippo Listo è Pippo Listo Pippo Listo sto volando Pippo Listo sto volando Pippo Listo sto volando ah è tutto attaccato bene io purtroppo ragazzi ho una piccola una leggera forma Marco è scomparso ciao Marco ciao Marco vi rapavo grazie per l'euro so dove abita Erzo se valo rapisco lo porto in live fallo prego a fine quarantena ma gli ho già chiesto scusa in diretta ah Daniele a Daniele sì sì ma Daniele lo sa l'ho avvertito l'ho avvertito non l'aveva mai visto quella clip ma vai però la credo che l'abbia vista ma lui tipo il suo obiettivo finita la quarantena era venire qua e riappacificarsi con te e il Masella quindi era il suo obiettivo e ho detto va bene no no allora dobbiamo organizzarla meglio voglio riappacificarsi quando li taglio i capelli Marco te non hai idea se poi ci vedremo davvero tutti insieme di cosa verrà fuori dallo scontro finale ubriachi tra Mette e Daniele cioè in stile anime verrà fuori qualcosa di impossibile secondo te tu da ubriaco non mi hai mai visto a me un pochinino al MOBA ma non eri ubriaco era poco come te non mi hai visto veramente ubriaco a Mette devo dire la verità tu come sei veramente ubriaco come sapere è distruttivo il 20 volte di più molto più distruttivo io sono arrabbiatissimo ah si perché arrabbiato e via quella incazzata io sia io da ubriaco penso che tutti mi vogliano uccidere e che di conseguenza io devo uccidere tutti ok però mi dissocio questa è una roba solamente non bevete ragazzi soprattutto se guidate anche sulla bici super pericoloso sì secondo me ci divertiamo ma anche perché ma poi quel quando avete fatto il combattimento tu e Daniele ma quel posto là vuotissimo era proprio da anime sì sì era era da anime perché proprio impostazione stadio vuotissimo però è enorme la gente che guarda e fa mi? come? sì 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 era piazza dei cavalieri non credo ai tempi delle repubbliche marinarie avessero pensato a uno scontro anime però sono convinto che si può riciclare anche come quello era molto giapponese la cosa sì molto molto era più attacco di giganti che è un po' più mi vedeva le giante sai con le mura le cose può sembrare oh Dario Moccia Twitch gentilmente freebuttato dalle schede OMG